Maria Valtorta, il poema dell'uomo a Dio, estratto dai capitoli 62 e 63. Giuseppe, maestro di Gesù. Vedo apparire, dolce come un raggio di sole in una giornata piovosa, il mio Gesù. Piccolo bambino di un cinque anni circa, tutto biondo e bello nella semplice vesticciola celeste che gli scende sino a metà dei polpacci. Gioca nell'orticello con della terra, ne fa di mucchietti e sopra ripianta dei rametti come facesse dei boschi in miniatura. Con i sassolini fa delle stradicciole e poi vorrebbe fare un piccolo lago ai piedi delle sue minuscole colline. Prende perciò un fondo di qualche vecchia stoviglia e lo interra sino all'orlo, poi lo riempie con dell'acqua, ma non ottiene altro che bagnarsi la veste, specie nelle maniche. L'acqua sfugge dal piatto sbocconcellato e il lago si asciuga. Giuseppe appare sulla porta e zitto zitto sta a guardare per qualche tempo il lavoro del bambino e sorride. Infatti è spettacolo che fa sorridere di gioia. Poi per impedire che Gesù si bagni di più lo chiama. Gesù si volge sorridendo e vedendo Giuseppe corre a lui con le bracci netese. Gesù spiega il suo lavoro e il suo gioco e le difficoltà incontrate nell'eseguirlo. Voleva fare un lago, voleva varare delle piccole barche nel lago. Queste foglie sono barche, ma l'acqua sfugge. Giuseppe osserve e si interessa come di cosa seria. Poi propone di fare lui domani un piccolo lago, non con il piatto sbocconcellato, ma con una piccola vasca di legno ben stoccata, sulla quale Gesù avrebbe potuto varare delle vere barchette di legno che Giuseppe gli avrebbe insegnato a fare. Proprio ora gli portava di piccole attrezze di lavoro adatte a lui perché potesse imparare senza fatica ad usarli. Così ti aiuterò, dice Gesù con un sorriso. Così mi aiuterai e diventerai un bravo faligname. Vieni a vederli. Ed entrano nel laboratorio e Giuseppe mostra un piccolo martello, una piccola sega di minuscoli cacciavite ed una pialla da bambola deposti su un bancone da faligname, un bancone adatto alla statura del piccolo Gesù. Vedi, per segare si mette questo legno appoggiato così, si prende la sega così e facendo attenzione di non andare contro le dita si sega. Prova. Prova. E la lezione comincia e Gesù, divenendo rosso nello sforzo e stringendo le labbra con attenzione sega e poi liscia la piccolasse con la pialla e anche se alquanto storta, gli pare bella. Giuseppe le loda e lo insegna a lavorare con pazienza e amore. Torna Maria che certo era fuori casa e si affaccia all'uscio e guarda. I due non la vedono perché hanno le spalle voltate. La mamma sorride nel vedere lo zero con cui Gesù lavora di pialla e l'affetto con cui Giuseppe lo ammaestra. Ma Gesù deve sentire quel sorriso. Si volge, vede la mamma e corre all'ego la sua cicciola semipiallata e gliela mostra. Maria ammira e si curva a baciare Gesù, gli ravvive riccioli scomposti, gli asciuga il sudore sul viso accaldato e ascolta con affetto Gesù che le promette di farlo uno sgabbelletto per stare più comoda quando lavora. Giuseppe, ritto al minuscolo banco con la mano sul fianco, guarda e sorride. Dice Gesù «Si dice che Giuseppe fu il nutrizio mio, che se non potei come uomo darmi il latte con cui mi nutri Maria, egli spezzò se stesso nel lavoro per darmi pane e conforto ed ebbe gentilezza ad affetti di vera madre. Da Lui ho imparato e mai allievo ebbe un maestro più buono. Se la mia intelligenza di figlio era perfetta, occorre riflettere e credere che non voglio uscire clamorosamente dalle regole dell'età. Perciò, avvilendo la mia perfezione intellettiva di Dio al livello di una perfezione intellettiva umana, mi sono soggettato ad avere ammestro un uomo e ad avere bisogno di un maestro, che se poi ho appreso con rapidità e buona volontà, ciò non toglie merito a me di essermi fatto soggetto ad un uomo. E all'uomo giusto, le care ore passate a fianco di Giuseppe, che come per gioco mi condussi ad essere capace di lavorare, io non lo dimentico, neppure ora che sono in cielo. E quando guardo il padre mio putativo, rivedo il piccolo orto e il laboratorio fumoso e mi pare di vedere affacciarsi la mamma con il suo sorriso, che faceva il luogo d'oro e beati noi. Quanto avrebbero da imparare le famiglie, da questa perfezione di sposi, che si amarono come nessun altro si amò. Giuseppe era il capo, indiscussa ed indiscutibile la sua autorità familiare, davanti alla quale si pregava riverente quella della sposa e madre di Dio e si assoggettava al figlio di Dio. Tutto ben fatto, quello che Giuseppe decideva di fare, senza discussioni, senza puntigli, senza resistenze, la sua parola era la nostra piccola legge e ciò nonostante in lui quanto umiltà. Mai un abuso di potere, mai un volere contro ragione solo perché era il capo. La sposa era la sua consigliera soave e se nella sua umiltà profonda ella si reputava l'ancella del consorte, il consorte traeva dalla sua sapienza di piena di grazia lume di guida per tutti gli eventi ed io, crescendo come fiori protetto da due alberi cagliardi, fra questi due muri che si intrecciavano su di me per proteggermi ed amarmi. Finché l'età mi fece ignorare il mondo, io non rimpianzi il paradiso. Dio Padre e il Divino Spirito non erano assenti poiché Maria era piena di essi e gli angeli vi avevano di mura poiché nulla si allontanava da quella casa. E uno, potrei dire, aveva preso carne della Giuseppe. Anima angelica, liberata dal peso della carne e solo occupata a servire Dio e la sua causa e ad amarlo come lo amano i serafini. Lo sguardo di Giuseppe, placido e puro, come quello di una stella ignara delle concupiscenze terrene, era il nostro riposo, la nostra forza. Molti credono che io non abbia umanamente sofferto quando la morte spense con lo sguardo di santo. Serio Dio è come tale cognito della felice sorte di Giuseppe e perciò non addolorato per la sua dipartita che dopo breve tempo, che dopo breve sosta nel limbo gli avrebbe aperto il cielo come uomo pianto nella casa vuota della sua amorosa presenza. Ho pianto sull'amico istinto e non avrei dovuto piangere su questo mio santo sul cui il petto aveva dormito piccino e dal quale avevo per tanti anni avuto amore. Faccio infine osservare ai genitori come senza aiuto di erudizione pedagogica Giuseppe seppe fare di me un bravo operaio. Giunto appena all'età in cui avessi potuto maneggiare gli arnesi senza lasciarmi poltrine nell'ozio, mi avviò al lavoro ed il mio amore per Maria si fece l'ausilio primo per spronarmi al lavoro. Fare gli oggetti utili alla mamma. Ecco, così che si inculcava il dovuto rispetto verso la mamma che ogni figlio dovrebbe avere e su questa rispettosa amorosa leva si appoggiava l'insegnamento per il futuro falegname. Dove sono ora le famiglie in cui ai piccoli si faccia amare il lavoro come mezzo di far cosa gradita ai genitori. I figli ora sono i despoti della casa. Crescono duri, indifferenti, villani verso i genitori. Li reputano servi loro, schiavi loro. Non li amano e ne sono poco amati. Perché, mentre fate dei figli dei prepotenti e bizzosi, vi staccate da essi con un assentismo vergognoso? Di tutti sono i figli, meno che i vostri o genitori del ventesimo secolo. Sono della nutrice, dell'istitutrice, del collegio, se siete ricchi. Sono dei compagni della strada, delle scuole, se siete poveri, ma non vostri. Voi mamme li generate e basta. Voi padri fate lo stesso, ma un figlio non è solo carne. È mente, è cuore, è spirito. Credete pure che nessuno più di un padre e di una madre hanno il dovere e il diritto di formare questa mente, questo cuore, questo spirito. La famiglia c'è e ci deve essere. Non vi è teoria o progresso che valga a distruggere questa verità senza provocare rovina. Da un istituto familiare sgredorato non possono che venire futuri uomini e future donne sempre più depravati e cagioni di sempre più grandi rovine. E vi dico in verità che sarebbe meglio che non vi fossero più matrimoni e più prole sulla terra, anziché vi siano famiglie meno unite di quanto non siano le tribù delle scimmie, delle famiglie, non scuola di virtù, di lavoro, di amore e di religione, ma caos in cui ognuno vive a sé come ingranaggi disingranati che finiscano a spezzarsi. Spezzate, spezzate. I frutti di questo vostro spezzare la forma più santa del viver sociale, li vedete e li subite. Continuate pure se volete, ma non lamentatevi se questa terra divene sempre più inferno, dimora di mostri che divorano famiglie e nazioni. Voi lo volete e talvi sia.